Musica Riapre un'altra palestra in una scuola di Napoli. Dopo cinque anni viene restituita la struttura al plesso Pisani, nell'omonima contrada di Pianura. Dopo i lavori eseguiti con fondi del bilancio comunale, in un quartiere dove è particolarmente forte il rapporto della scuola con il territorio. Davvero un messaggio forte qui a Contrada Pisani, a Pianura, alla scuola Troisi. Un obiettivo fortemente voluto dalle mamme, dal Consiglio d'Istituto, dalla comunità scolastica, dalla Preside, da noi fortemente voluto con tanta determinazione. Ricordo alla fine del primo mandato come fu complicato trovare ulteriori risorse per la scuola. Devo dire che la nostra amministrazione ha fatto davvero tanto per la scuola in momenti tra l'altro di crisi economica. Lo stiamo facendo molto come Comune di Napoli e tanto come città metropolitana. Voglio ricordare che come sindaco della città metropolitana ho finanziato il primo istituto superiore a Pianura, perché Pianura è l'unico quartiere di Napoli che non ha l'istituto superiore. Quindi nell'arco di questa sindacatura come città metropolitana realizzeremo anche a Pianura il primo istituto superiore, il primo liceo.